E ragazzi, come va? Io sono Feri, Niki E sono Stef, che sono Giacomo Forna E benvenuti in un ovissimo episodio di Fortnite in cui oggi faremo la Rainbow Challenge Rainbow Gun Challenge, Feri Ah, Gun Challenge È ancora più carino L'abbiamo visto in un canale internazionale che si chiama Alia In cosa consiste? Possiamo avere un'arma di ogni rarità Quindi se abbiamo un'arma bianca non possiamo avere altre armi bianche Quindi dovremmo avere una bianca, arma verde, arma blu, arma epica e arma leggendaria Ovviamente è quello che riusciamo a trovare L'importante è il limite di non poter avere mai due armi della stessa rarità Esatto, esatto Potiamo preoccuparci più che non vogliamo andare a corso a commercio Andiamo a fare... Ci sarà un bel po' di gente, lo sai, vero? Cioè, era il primo posto dove buttarsi È una bella città grande Anche se poi, secondo me, vanno di più a corso con me Vanno di più a corso con me Se tu lo dici, i consolini si buttano fisso qua Gli altri iniziano a buttarsi qua E diventa un posto dove noi non possiamo più andare Non puoi dirlo in video per i nostri posti Deve andare a pensare i posti, capito? Ma li vedono lo stesso, Stef Lo so, ma se tu non lo dici, pensano Ah, si sono buttati lì Invece l'ho vinto Uno 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 Beh, saranno due Da solo Ah, dai, saranno due Ovvio che saranno due Non so... Dove andiamo? Stanno andando alla casa moderna, loro Ok Io vado a questa Sì, ok Tanto dall'altra parte, quindi Ok, ok, ok Quando la giornata inizia bene Cecchino blu Che c'è? Boom, una terra Ok, bravo Grazie Non posso fare molto sull'amico Se non sfiorarlo Porca miseria Uh bello Cambio arma bianca Ok Perché l'ho trovato un'altra migliore Va benissimo Va benissimo Non ho vision Non rest Parte a 30 di vita Quindi comunque è buono Però che spreco Porca miseria L'ho proprio sfiorato poi Qualcosa? Beh Io ho già la mia arma leggendaria Ma no Ma chi hai trovato? Il minigun Ma dai Già Ma di già Un'arma normale no eh Cechino e minigun Però va bene così Allora devo buttare Io ho trovato un trampolino La granata Perché bisogna rispettare le regole La lasciamo qua Però attira molto l'attenzione Poi mi notano Perché è stata una scienza Devo buttarla dopo E sono ancora la casa moderna entrambi Perché l'ha resato Ok E quindi sono rimasti all'incirca lì E non so Se ti vuoi piano piano avvicinare lutando Lo apprezzerei tanto cara Sono d'accordo Sono d'accordo E loro rimangono lì Probabilmente stanno cercando di vedermi Non so bene che strategie vogliono fare Però siamo anche dentro la zona Quindi ho tutto il tempo del mondo Ne ho visto uno nel tetto Ok Uno è sceso Siamo sicuri non ci sia nessun altro Perché no Allora altre case non le faccio Porre di trovarmi player Anche se poi mi sembra tutto chiuso Però Loro sono alla casa blu A fianco alla casa moderna Ok Allora io ho solo un M16 bianco Entra in quella casa blu Questa? Sì sì lutala Tanto anche loro stanno lutando Non me la sento di fare un rush Dove ho soltanto Ok perfetto Adesso ho anche pompa Oh fucile a pompa verde Questo me lo posso prendere Gli scillini ovviamente non contano Il cespuglio lo vuoi? No vero lo butto No non mi piace il cespuglio Lo butto Guarda sarà carino per nascondersi Ma alla fine quando cammini Ti disturbano le foglie Non vedi una ceppa Io voglio farti ridere Al momento non avevo l'arma bianca Come rarità Mi manca l'epico e il bianco Ma dai Ok ho trovato l'epico Ma dai Blu Verde Arancione E viola Oh wow Fantastico Io per ora ho bianco e verde Ho visto anche un altro fucile a pompa bianco Di quello che mi piace Però non lo posso ottenere Sarei costretta a buttare Capito l'M16 E non avrei armi a distanza Quindi mi tengo quello verde e rosso E facendo Chi è stato Oh mio dio Oh mio dio Andiamo Li lasciamo stavolta Ti prego non posso sniperarli tutto il gioco Tutto il tempo Tutto il tempo Li vedi? No non li vedo Dove sono bui lampere? Non puoi mettersi due ore a uscire È già troppo tardi È già troppo tardi Era al piano di sopra Incastrata con una mia stessa scala Prendendo una cesta Arrivo comunque Dove sei? Eccoti 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 Lo sto facendo panicare In modo da non avere Il tempo di restare l'amico E però Di spararmi sì che c'era il tempo Porca miseria È certo che c'era il tempo Mica aspetta te qua Mmm Sei arrivata? Sì sono da fianco a te Sto facendo la mia costruzione Ok Mi tira la granate E sbucca Ho finito davvero i materiali Porca miseria No Ok Uno mi sa che è sceso E sta di sotto Comunque Ok Però secondo me L'ha già arrestato Siamo due contro due Ok Lo vedi? Massacralo Mi sta colpendo eh Colpito Ok L'altro colpisce dal soffitto eh L'ho colpito Ho buttato giù a terra Quello del soffitto C'è quello di sopra In mezzo alle macchine Ho colpito Boom Bravi 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 Quello del soffitto Non hai capito Sapevo che era lì Ho mirato nell'angolo del soffitto E come ho visto sbucare la testa Ho fatto boom No Questo è mio Eh io non ce l'ho ancora l'arma blu Eh io non ho quella bianca Eh neanch'io Non ho ancora quella bianca Ti giuro che ho avuto una scelta Tra quel cechino e LM16 Vediamo se è rimasto qualcosa in casa Di interessante Beh di sicuro è l'ulto del tipo Fere Quello Shieldini Ma ho già uno slurp Sì vabbè vai tu Vai tu C'è l'arma blu Quella col mirino LM16 Però io non ho spazio Perché ho il cechino Mi sa che anche tu Non puoi prenderlo vero? Se torno a prendermi LM16 bianco Tecnicamente No l'ho preso io LM16 bianco Allora no Lo devi lasciare lì Peccato mi piace troppo E con quell'arma ci faccio Un botto di kill Sicuramente mi piace davvero tanto Allora Credo di non aver mai fatto Quei tanti headshot In così tanti pochi colpi È stato divertentissimo Il problema è che Non potevamo sfruttare la cosa Perché non trovavo delle armi Per lasciare la gente Però alla fine comunque Ce li siamo killati E parte abbastanza bene Questa sfida Perché kill Buon loot Nel senso che Sono abbastanza soddisfatto No anch'io sono abbastanza soddisfatta Delle armi Allora mi manca sicuramente Un'arma bianca Vai l'utatulli Guarda sai che mi prendo Come arma bianca Mi prendo questa Il pompa quello forte Sì È ora di andare nella nuova zona Quanti mazzai? 125 Sono schiappa Eh lo so Ma proprio schifo Faccio un po' di cespugli al volo Che tanto con un hit li rompo Mentre corriamo E almeno fanno qualcosa È perché Iniziamo a essere equipaggiati Decenti Cioè io non sono molto soddisfatto Di avere l'M16 bianco In endgame Però comunque Io almeno Almeno ce l'ho blu Quindi sono stata fortunata Perché ho deciso di tenermi Quello come arma blu E non è male Io avrei bisogno di trovare Il cecchino Tipo leggendario O epico In modo da poter buttare Il cecchino blu E prendere un'M16 blu Nel caso in cui lo troviamo È un delirio Dover fare i cambi delle armi Quindi non sarà semplice Vedrò piano piano Sto da facendo Perché ci sono dei cadaveri qua sotto Davvero? Smetti di spaccare È ormai iniziato Fammi finire Ti ammazzo Tanto andiamo Andiamo a picchiare Non so se c'è gente È pieno di quelle armi Che mirano Pieno di armi blu Che non posso prendere Purtroppo E c'è L'M16 verde Però non c'è Il pompa bianco Per fare il cambio Porca miseria Peccato Mi spiace Occhio Piano Ok Tutto a posto Io ce l'avrei anche Il pompa bianco Ma poi non avrei Armi per me Capisci Non starei a fare Il trip Devo te lo comunque Non puoi farlo anch'io Sì è un po' intrippante Bisogna decidere bene Però Allora Siamo in zona di pinnacoli E di lago del bottino Ma che bel posto Per finire un game Di nuovo lago del bottino Io odio quando chiude Il lago del bottino Sì sì ma c'è un airdrop L'airdrop può risolvere Tanti problemi Tu non hai l'arma leggendaria È vero È vero che me manca E io cambio volentieri Il mio minigam Perché lo odio Quindi Diciamo che Potremmo fare belli scambi Oltretutto però Se prendessi Se prendessi L'arma leggendaria Dovrei rinunciare Al mio medikit Eh vabbè Quello ci sta Eh più o meno Sai come rinunciare A delle cure Comunque non è che sia Ottimale Che succede Hai visto qualcuno È lontanissimo Non so se andare No boh Anche se a me fa schifo Stare in questa parte Della zona Anche a me non mi piace Quindi Facciamo un giro largo Senza pensare ad andare A prenderlo velocissimi Ma cambiamo zona Perché è davvero Troppo rischio Troppa persa Troppi monti Troppa gente che arriva Un po' da tutti i lati Quindi imprevedibile Non so mai da dove arrivano Oggi non so parlare Guarda Accidenti Cioè Sinceramente Ho 500 mazzo Ho bei colpi Ho uno shield extra Io sinceramente Me la voglio giocare Per vincere Te lo dico La rainbow gun challenge Ce la possiamo portare a casa Sì Anche secondo me Non siamo messi così male Alla fine Diciamo che Dovendo essere obbligati A prendere certi tipi di colori Comunque non è che Siamo messi malissimo No no infatti Non è che ci è andata così male No perché abbiamo lutato Un'intera città Cioè in due Parco Pacifico È normale che hai Un po' quello che vuoi Fossimo andati in un posto brutto Magari avevi bisogno Di tre armi bianche Non potevi prenderle E hai rimesso malissimo Qualche rinuncia Ma alla fine Siamo messi abbastanza bene Esatto 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 Allora Questa Sì Non hanno lutato Non hanno lutato Da cosa non la luttano quasi mai Non chiedermi perché Perché hanno tutti paura La trovo spesso vuota Ma spessissimo Cioè che ci arrivi Scigli piccoli Alla fine Ho trovato un trampolino Steph Il problema è che ne ho già due Wow meglio Dai dai uno Sì Aspetta Vai Sembra in un posto sicuro Boh Più o meno Vabbè Butta veloce Allora dov'è Qui Dividi Tieni Grazie Ok Mi piace il trampolino Questo può essere ottimo Per andare in faccia alle persone Alla fine del game Può essere ottimo Io l'adoro Allora Siamo anche alla nuova zona Me ne sono appena accorto Siamo completamente dentro Ahà Però è una zona completamente aperta Sì Completamente proprio Dalle colline Sono l'unica cosa che esiste Le collinette Poi ci può sbucare qualcuno all'improvviso Infatti occhio adesso Fai attenzione Tengo il fucile a pompa Speriamo bene Ma sembra Boh Però era sembra sì Credo che siano tutti dall'altra Ho visto qualcosa esplodere Oh eccoli di fronte a noi 165 Stef Erano uno o due Uno l'ho visto saltare Poi non so quanti sono Di fronte Li vedi Li vedi Li vedi Sì aspetta Aspetta Vai Io so Ce l'ho in mira L'hai colpito Una volta Continua Non ho così tanti colpi Però Stef E questo Costruisce come un matto Ci sparano Dall'altra parte Via 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 Scendi giù Scendi giù Ok l'ho visto Mi è arrivato un colpo Dalla destra Hanno entrambi il cechino Eh sì 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 Porca miseria Stiamo sfidando gente tranquilla E poi come facciamo Eh no è brutto Però ormai Sono arrabbiati questi Eh lo so Lo so Cavolo Non so che fare Aspetta Cerca di colpirmi Io odio questa zona Ti ho detto Stef Che la odio Guarda Lo so Quando chiude qua È una tragedia Loro stanno rischiando Abbastanza Eh sì Perché io li sto sfiorando Un po' troppe volte Per quanto mi riguarda Allora mi sta mirando Tutto il tempo Sto cercando di prendermi In tutti i modi possibili Sto qua Sì lo so lo so Ha airdrop di fronte pure Sì Io sto provando a cecchinarlo Ma mi hai in mira Appena provo A uscire fuori Sì sì infatti Non rischia l'anni che troppo Dalla struttura C'è lui che proprio tira un colpo Non ho preso colpi Ovviamente a parte il primo Però Sto guardando anche un po' intorno Che sai Non vorrei morire Faccio un altro muro Ah due airdrop A fianco abbiamo Non è una bella cosa però No Se ne snipero uno dei due Possiamo correre a prenderci l'airdrop Però sai quanta gente Stiamo attirando in questa zona E noi non possiamo fare nulla Tanta 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 La rainbow gun Che succede Si era buttato giù Sono andati Cavolo Entrambi nel Quello di mattoncini Quale quello di mattoncini Ci vengono addosso Ok Addosso quanto? No vuole l'airdrop Ok Cavolo io non ho ben visione Da questa che mi sposto Occhio eh Perché l'altro è cechina Cavolo È a terra però Cavolo Non fa Sporgersi Ce l'ha con me Steph È gelosa la mia skin Ah Ma ti ha colpito? Si Fai c'è un altro team Dove? Molto più avanti Oh cavolo Mi ha Ma Sono circondati Seguimi Noi dobbiamo andare via Stanno sparando tra di loro C'è un delirio Non si capisce nulla Mi hanno sniperato in bocca Anche a me Anche a me Malamente Gente bullare a 165 Ci stanno provando a sparare con una balestra? No 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 Penso sempre col cecchino No no Ho visto una balestra Sì hai ragione Di fronte a noi per di più Ok io faccio il cambio Ok bravo Allora sto No non posso togliere il medikit Ma devo Perché c'è l'arma leggenda Beh beviti il medikit Hai ragione Però veloce Ce la faccio Coprimi 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 Al volo al volo Dai 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 Veloce 5 secondi 4 3 2 1 No l'ho interrotto Cavolo Io non ho idea Di che cosa? Da dove ci hanno sparato? Non lo so neanche io Ho paura che mi arrivi Da un momento all'altro Non mi posso muore Io ho visto uno Ma non era quello che ci ha provato a sparare Quindi non siamo messi molto bene Ci serve sa perlo Cavolo sono messa malissimo di colpi Quanto sono messa male di colpi Stanno sparando nella nostra zona Perché pensano che siamo ancora lì Non ci hanno visto Non costruire più eh Non ci hanno visto spostarci Ed è un'ottima cosa Già Allora io un attimo Uffre Dov'è? Ci vogliono sniper Ecco qua Ecco qua Erano prontissimi Mi hanno ucciso Mi hanno tirato il razzo sotto L'ho fatto saltare in aria Siamo morti tutti Siamo rimasti in cinque E' stato un bel game però eh Sinceramente No quello si Un po' mi dispiace Cioè siamo in quattro Morivano questi Era finita Avevamo due contro due No sinceramente poi sai che cos'è Che ci sono arrivata davvero male alla fine Sì non si è capito nulla No avevo venti colpi Non avevo armi comunque per vedere Pochi materiali Ci sono arrivata davvero male Ragazzi lasciateci un like Questa è la prima volta che ho detto il nostro video Potete considerarli e riscrivervi Per non perdervi gli altri episodi Ciao alla prossima Ciao ciao